Grandi campioni che vanno a omaggiare i piccoli. Bene, grazie ragazzi, se volete avvicinarvi, vedo che i nostri piccoli campioni hanno lavorato per festeggiarvi, hanno una sorpresa per voi. Bene, questo è un incontro, un incontro importantissimo, un passaggio se volete di testimone. I nostri campioni della prima squadra vanno a rendere, se volete, loro stessi a rendere omaggio ai piccoli che domani prenderanno loro posto. Facciamo una foto con loro? Sottoc primi, ragazzi tutti i nomi, i beatrix, i beatrix, i beatrix e i beatrix, i beatrix e le gi рад cellulari, i beatrix e le ritorni a forcedci e le risposte a risp quaderni, se volete abbastanza un candidato. devo venire un po' avanti ragazzi venite qua con me perché se no il microfono ci abbandona intorno a me bravissimi tutti un altro applauso ancora per i testini bravissimi intorno allora tutti sanno questo coro inizio e seguite allora un giorno all'improvviso un giorno all'improvviso mi innamorai di te mi innamorai di te il cuore mi batteva il cuore mi batteva non chiedermi perché non chiedermi perché il tempo nel passato il tempo nel passato ma siamo ancora qua ma siamo ancora qua e oggi come allora e oggi come allora io ti fumo io ti fumo all'improvviso io ti fumo all'improvviso io conto su di voi bene abbiamo ancora un po' di tempo prima che inizi la partita con della prima squadra sei ivo Matteo Ferrari Matteo Galiano Alessandro Leone Alessandro Maggiore non chiedermi per l'improvviso non chiedermi per l'improvviso bravi bravi pianto piano piano di abbassare Grazie a tutti Grazie a tutti Aldo, Aldo, Aldo Aggiungere il vostro capitano Il signor sindaco La dottoressa Fantino Il presidente dell'Albistola Mirko Saviozzi Il sindaco per alzare Questo momento storico Alziamo la poppa Un applauso Albistola Mirko Maresciallo, grazie Abbiamo un grandissimo ospite con noi Arriva giusto per il momento più soleno Bravi ragazzi Grazie a tutti 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 Buongiorno a tutti Il prossimo lo sarà ancora di più Grazie a tutti Buongiorno a tutti Grazie 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 a tutti